Buonasera a tutti e ben ritrovati. Sono felicissima di presentarvi questo pacchetto. Guardate bene la scritta, vedete De Agostini. Qualcuno di voi sa già che Alibro Aperto è stato premiato con due recensioni, tra le migliori cinque, per due diversi romanzi che vi farò subito vedere, perché il premio consiste nei cartacei di questi due romanzi che abbiamo letto, anzi che hanno letto le bravissime Feerica Cabras e Alice Bruna. Ecco qua, vi faccio vedere, via Planeta Libri. Apriamo insieme il pacchettino perché sono anch'io, come voi, ansiosa di vederli dal vivo. Eccolo qua, scusatemi, ma ci tenevo proprio a farlo davanti a voi. Ecco qua, bellissimo. Scusate ma sto rischiando di fare un disastro. Eccolo qua, get even. Allora, se puoi vendicati. Eccolo qua. Che vi devo dire? Queste serie sono, le trovate su Netflix. Eccolo qua. Uno. Questo ha cura, è recensito a cura di Feerica Cabras, mi raccomando, www.mycamedici.com. L'altro è il secondo volume, The Kissing Book. Eccolo qua. Un'amore a distanza. Ma abbiamo anche il primo volume.